Episodio 6 Non si mangiano i mattoni marroni Che cacchio di titolo è? Non si mangiano i mattoni marroni Ma ti prego Che cazzo di... Che titolo è? Non si mangiano i mattoni marroni Dai vieni qua Ecco fatto Che tra l'altro in realtà Ho appena scoperto che il marrone Dei questi qua Non è solamente uno Ma ci sono due tipi di marroni E c'è anche quello bianco Quello shiny Facciamo così E facciamo così Io voglio quello bianco perché è il più bello di tutti Ecco fatto Vieni da me Quanti bianchi Ma pezzi di merda Vieni qua Che palle stirallenti Che non servono a niente Dai Che tra l'altro C'è anche l'obiettivo di Crashare Trenta di questi Quindi Tanto vale che In questa sezione Esatto Continuiamo un po' A fare avanti e indietro tra di loro Anche se ho detto che voglio quello bianco Non Annulli Esatto Questo ci serve Dai Ecco qua Non Precludiamoci Un trofeo Diciamo Ecco fatto E' probabile che io abbia bisogno Dei cecchini Ecco fatto E' probabile Che io abbia bisogno Dei cecchini Per poter rompere Quelle parti lì Vero? A meno che Dicevo a meno che No E' esatto Vieni qua E' probabile Che a questo giro Perderemo Il trofeo Del Del come si chiama Del Farre delle combo Visto come sta già andando Questo livello Ma No Questo è stato cattivo Da parte vostra Anche perché mi avete tolto Un sacco di vita Per niente Dammi un frutto Vumpa Ecco fatto Morto? Perfetto Aspetta Ecco fatto Meglio ucciderli Finchè Appaiono Ecco qua A posto Passaggio sbloccato E credo Che non possiamo fare Altrimenti Vero? Già Mi dispiace Ma ti devo uccidere Va bene Speravo di arrivare Già a 15 Ma Ah ma Vabbè Non importa Qua ho fatto Una cazzatissima Assurda Pensavo ci fosse La discesa Da fare Con Con il Con lo skate Insomma E mi sono lanciato Nel vuoto cosmico Frutto Un pack Grazie Qua se mi becca Un tronco Cadiamo di sotto Istantaneamente Lì c'è un cesso Vicino A un cesso Vero e proprio Il che È un cesso Semption Ha detto Mi sto Moshando Vabbè Non era 15 di sicuro Purtroppo Ecco qua Allora Di qua Non c'è nulla Andiamo Nel portale Speriamo che Il potenziamento Del calcio Ci rimanga Yes Ci è rimasto E forse abbiamo Ancora il tempo Bello quello Con l'armatura grigia Bellissimo E ovviamente Guarda caso Non ho letto Neanche l'obiettivo Della stanza Qual era? Vabbè Proseguiamo Mi piace che Tirandogli Il calcio Dicevo Tirandogli Potenziamento Attacco Ma non ho letto Cosa dobbiamo fare? Cosa devo fare? Uccidere tutti i nemici? Non ho letto È colpa mia Qua Credo di sì Forse Ah ok Uccidi tutti i nemici Good Va bene Se è come tutte le altre Qui Abbiamo La pietra Per distruggerli Esatto Mi dispiace Ma Tanto Saresti morto lo stesso Quindi Almeno mi potenzi Allora Vai Crash Torniamo Dall'altra parte No Da questa Crash Ecco qua Perfetto E Guarda caso Chi è che c'è lì Proprio Quello Con l'armatura grigia Che Mi piace molto 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 Non lo nego Resta lì Mi ha appena schiacciato Dobbiamo fare Molta più attenzione Con questi Perfetto Ho bisogno Di un frutto Vumpa E smettetela Di ruttare Maledetti Schifosi Ecco qua Dammi Del frutto Vumpa Ecco fatto Qua probabilmente Sarei riuscito a fare La La cosa del Del re delle combo Visto quanti Stanno apparendo Ma Ormai Credo Che a questo livello Vada così E anzi Preferisco tenere Questo qui Al momento Al momento Che non si sa mai Cosa può succedere Allora Continua a roteare Continua a roteare Ecco fatto Perfetto Ecco qua Ne devo carasciare 30 Ne devo carasciare 30 O 50 Boh Non lo so In ogni caso Ne devo fare Un bel po' Più Di quanti ne ho adesso Ecco fatto A posto Prendi il pulsante Per saltare E rimbalzare Sui muri Ok Il wall jump Insomma Perfetto Quella È un'altra bambola E Dobbiamo prenderla Ovviamente Mi chiedo come sia Questo gioco Giocato in due Ecco fatto Grazie E con questo No Crash Dobbiamo farlo A tempo Perché Se lo faccio Troppo forte Fa l'elicottero E non va bene Allora Meno male che Non ho dovuto Scegliere Fra uno e l'altro Ecco qua E speriamo Che l'ultimo Appaia adesso Sta landa Iper desolata Sembra una zona Di guerra Sembra una trincea Probabilmente È quello Che dovrebbe Sembrare Il cesso Se c'è È perfetto Uh Nemico nuovo Siamo tutti Decafoni Questo adesso Si libera E fa un casino Sicuro È un Elefanriccio Uno Spinofante Forza Venite tutti qua Che io devo fare Un po' di combo Credo che bastino Vero Come non sono bastate Ma per favore Ne ho fatte 30 Quante ne volevano Dai Come è possibile Come è possibile che ne volevano 50 di sicuro O 45 No Credo sia un Fanterilla Credo sia un elefante Gorilla Lui E sai che ti dico Beccati sto calcio In faccia Va Meno male Che l'abbiamo preso Subito Proprio Allora Che potenziamento Hai amico Hai I pugni Hai Un Super calcio Mediam Perfetto Mi piaci E vorrei vedere La X Sì Buongiorno Credo che questo Il gioco Non l'avesse Messo in conto Cioè O meglio Se l'hanno fatto Vuol dire che Era possibile farlo Ma Cacchio Questo è forte Proviamo con questo Fammi passare Dai Fammi passare Maledetto Ecco qua A posto Beccatevi La fiammata Infernale Suprema Ecco qua Direi Che Il cesso Non può essere Lontano Io intanto Eccolo la infatti L'abbiamo visto No Non è dove l'avevo visto Quello era un cesso Veramente Il cesso che mi serviva Era questo Ecco qua Più che altro Volano via Volano via Il che è un problema Per prendere I punti Ecco fatto Grazie Questo due perle Abbiamo un filo Sprecato Purtroppo Ecco fatto Sai che speravo Lo facesse volare via Un po' Ci ho sperato Però Sto gorifante Mamma mia Tutto rispetto Per lui Ecco fatto Noi intanto Apriamo la porta E loro Crepano con calma Quindi Grazie Dei punti E Grazie Dei punti Io intanto Ammazzo Anche questo qua dietro Ho bisogno di Un frutto Pumpa Se ce l'hai Immaginavo Ah C'è anche il counter Di quando muoio C'è Le stelline Continuano a girare Finché lui non muore Hanno certa Scompaiono Occhio ai Tronchi E questo vuol dire Che Stanno per morire Questa è ovviamente Zona di skate E dobbiamo entrare Là dentro E forse Forse Finisce il livello Lì Però lui Dai Fammelo superare Voglio andare ancora con lui Lui è bravissimo È stato Il mio mostrone Preferito Ad ora Adesso È il È stato il mio preferito Veramente Bello Ben fatto Anche il design Veramente Figo Meno male Che ci siamo riusciti A salvare Credo che I scagnozzi Siamo A posto Vero? Eh Vabbè Almeno sugli scagnozzi Siamo a posto Diciamo Vabbè Facciamo che Li Evitiamo E io penso Solo A scivolare Per il momento Ecco qua E infine Eccoci Arrivati Livello Completato Robot Si è preso Distrutto Di scagnotti Si è fatto Il re delle combo Direi proprio di no 20 Ma scusami Ma ne ho Ne ho fatte 30 Io ne ho fatte 30 Erano 25 Giusto? C'era un punto In cui ne abbiamo fatte tantissime Ma che stronzo Vabbè Era oro Era oro Questo livello Dai Che palle